Come fai a capire se hai un accumulo di grasso viscerale? Talvolta sei magro, sei bello, però hai del grasso viscerale che sappiamo che è molto pericoloso per il tuo organismo. Prendo spunto per fare questo video dalle vostre domande e dai vostri commenti. Quindi mi raccomando commentate e io cercherò di trattare argomenti di vostro interesse. Non c'è un vero e proprio test per individuare il grasso viscerale. È più semplice vedere il grasso sottocutaneo che è legato ai livelli di insulina, all'obesità eccetera. Il grasso viscerale può essere anche presente in una persona che apparentemente è in buona salute. Quindi quali sono le ricerche che noi possiamo fare per individuare questo concetto? Io sono sempre dell'idea di non fare mai ricerche complesse. Potremmo dosare in effetti la leptina, la diponectina, l'interleukina 6, potrebbero darci degli elementi e mettendo tutte queste cose insieme potremmo dedurre il livello di grasso viscerale. Poi io vi darei un elemento molto molto semplice, che è un esame di laboratorio semplicissimo e poco costruito. La proteina C-reattiva. La proteina C-reattiva è una molecola prodotta dal fegato quando c'è una situazione infiammatoria nell'organismo e molto spesso questa molecola viene prodotta quando la situazione infiammatoria è evocata dal grasso viscerale. Il grasso in generale, il grasso viscerale in particolare, non è un tessuto amorfo, è un tessuto che produce sostanze e molto spesso produce sostanze infiammatorie. Attraverso questo stimolo infiammatorio abbiamo una ripercussione del grasso viscerale sulla proteina C-reattiva. Quindi direi che questo parametro, la proteina C-reattiva, può essere un parametro, assieme chiaramente a tanti altri, di valutazione dell'eventuale grasso viscerale. Cosa facciamo se troviamo questo parametro elevato, pur non avendo, ribadisco, problemi di glicemia, di colesterolo, metabolici e così via? Incominciamo a prendere sostanze molto semplici all'alimentazione, la curcuma e lo zenzero in particolare. Quindi cerchiamo di inserire nell'alimentazione o nella supplementazione questi due elementi e poi naturalmente inserire nell'alimentazione del pesce grasso come il salmone e semmai di integrare anche con degli omega 3. Queste tre soluzioni, curcuma, zenzero, salmone, tè verde, sono delle possibilità per ridurre il grasso viscerale che poi andremo a valutare indagando la proteina C-reattiva.